bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video di minecraft giochiamo agli tnt games allora signori miei non c'ho non ci ho mai giocato sinceramente ho visto sempre dei vari video su youtube non perdiamo tempo e partiamo con il tnt run che più o meno forse so pvp run bov spliff non so che si vuole significare tnt tag no wizard non so cosa sia e qui non abbiamo niente va bene signori non perdiamo tempo e partiamo dal tnt run che secondo me dovrebbero essere carini allora vediamo un attimino se riusciamo a organizzarci in una partita quantomeno ci proviamo ok signori miei ci siamo ci siamo siamo 24 giocatori su 24 tra otto secondi sarà per partire il gioco ovviamente cosa consistono i tnt run due secondi un secondo ok siamo partiti allora signori miei in teoria noi dobbiamo correre come dei pazzi perché dove passiamo noi dove passa i nostri nemici sprofonda il pavimento quindi l'obiettivo signori cari ecco è quello di non cadere nel livello sottostante dobbiamo cercare di rimanere il più possibile sopra ora noi dovremmo avere la piuma che abbiamo in mano secondo un'antica leggenda dovrebbe farci fare un doppio salto fare un doppio salto significa che possiamo salvarci la vita in nel momento in cui stiamo per cascade sotto in teoria non sta andando male ragazzi in questo livello stiamo rimanendo più del primo e questa è una cosa buona se qualcuno si iniziasse a cascare a levarsi dalle scatole sarebbe una cosa bella e gradita riusciamo a fare un po di parkour qualche saltello così dai non sta andando male raga il problema è che non dobbiamo rimanere troppo fermi nemmeno nello stesso punto perché giustamente il pavimento sprofonda quello è cascato male è bello così non capiterà anche a noi non capiterà anche a noi stiamo stiamo durando un minuto e 0 4 bella così bella così siamo non so quando non so come funzioni la classifica in questo gioco porca di una paletta ambriaca come funziona il doppio salto voglio fare il doppio salto e non ci ho capito niente del doppio salto raga mi sono confuso pensavo che saltasse invece mi sa che non ha saltato una cippa di nulla va bene devo un attimino capire come funziona però però raga abbiamo 185 coins siamo player lives 14 stiamo giocando da un minuto e 35 non lo so ditemi voi come funziona se qualcuno ci ha giocato a questo gioco a questo diciamo questo mini game di minecraft me lo faccio sapere nei commenti mannaggia a me no 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 vola vola zio abbiamo tirato anche la bussola signori miei siamo morti sono rimasti 9 giocatori e non so a che posizione siamo arrivati e abbiamo fatto schifo non era molto difficile da capire questa questa cosa sono rimasti 8 giocatori voglio capire cosa succede quando muoiono tutti qualcosa succederà signori miei qualcosa succederà quando stanno a morire tutti questo sta ancora qua sopra ma perché non caschi giù no quello appena arrivato guardalo guardalo guarda come come il gioco ovviamente consiste nel tagliare la strada ai tuoi avversari così tutti cascano di sotto praticamente quello è morto no sta ancora correndo questo riesce a correre ancora lì ma sta scherzando ma chi è superman raga l'ha creato lui questo gioco ma è invincibile questo guarda come salta in maniera perfetta e là ce n'è un altro là c'è un altro quello sta a casca quello dai che cascate dai che cascate secondo me chi casca prima secondo me è quello secondo me casca prima quella sinistra quello con la maglietta più chiara dai dai che caschi giù no questo è morto è finita è finita è finita di sotto usate il doppio salto e si è salvato ho perso la scommessa che ho fatto con me stesso dov'è che maglietta maglietta blu mi sa che è cascato pure lì sotto ancora ci sono sei giocatori che paranoia e quando finisce sto livello dai 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 voglio vedere che succede quando quando cioè voglio vedere se c'è una classifica capire a che posto quello è cascato sono rimasti in due sono resti in due sono quelli di prima praticamente sono quelli di prima sono quelli di prima dai vai vai fuck 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 io voto per te io ti fo per te vai vai six six io ti fo per te io ti fo per te ora che era la prima volta che giocavo se sono arrivato a fare primi non so neanche quanti giocatori roma no sei morto zio sei morto no guardalo guardalo no allora siamo proprio noi che eravamo che eravamo scarsi è morto ne avevo detto io era morto siamo arrivati non si sa non si sa è bella così da solamente i primi tre ok mi sta di tante tante cose carine che cosa carina e sì io vorrei giocare ancora come si fa ok raga siamo nel momento nella seconda partita nella seconda partita della giornata siamo 12 giocatori questa volta siamo molto meno rispetto a prima 12 su 12 il tempo sta correndo qui ci sono dei nomi che non capisco cosa siano questi cartelli scritti questi bottoni funzionano ok carini ah sì funzionano i bottoni va bene stiamo un attimino degenerando siamo 11 giocatori raga dobbiamo arrivare oh siamo partiti siamo partiti siamo partiti siamo partiti siamo partiti questo mi sta tagliando la strada bastardo non ci riuscirai non ci riuscirai raga stiamo tranquilli facciamocela tutta a coti coti ovvero cost to cost cost to cost riusciamo a tenere più tempo secondo me e rimanere più in vita degli altri mannaggia a te quello mi stava a fa cascata mi stava a fa cascata e raga il problema è che uno si perde non segue bene più quello che c'è quello che non c'è il doppio salto raga mi ha salvato il doppio salto e siamo stupidi siamo cascati di sotto va bene un doppio salto ma ho usato due doppi salti solo solamente uno mi ha salvato la vita l'altro non mi ha completamente salvato la vita noi già già in mezz'ora che siamo qua sotto nel livello di sotto e gli altri avversari stanno arrivando adesso però va bene allora ricordiamoci che siamo in 11 siamo in 11 dobbiamo cercare di non morire per primi giusto vorrei evitare di essere nuovamente la pripista delle morti vorrei evitare di essere la pripista delle morti possiamo cercare di durare il più a lungo possibile quello è cascato di sotto bello 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 forse riusciamo a restare più no non mi laggare non mi laggare mannaggia mi ha laggato raga ma non mi doveva laggare stavo andando bene in quel in quel settore perché mi ha laggato così mannaggia a lui a chi non glielo dice pure stavamo andando bene devo solamente prenderci un attimino la mano devo solamente prenderci un attimino la mano l'hanno fatto il vuoto che cazzo non è successo lì c'è la non c'è non c'è tutto un livello un livello non c'è più non c'è più un livello questa cosa non va per niente bene ciao zio buona ricerca della della vita no siamo morti siamo arrivati noni siamo arrivati siamo arrivati noni ragazzi guarda come sono morti tutti ora subito ma parca miseria ma parca arrivati noni siamo arrivati 9 noni su 11 non è male non è male signori miei non è male non è male io vorrei giocare ancora però dai 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 ripartiamo ripartiamo in questa lobby siamo 10 dai dai stanno entrando stanno entrando 24 16 19 si partirà tra un minuto e 23 raga hanno fare 18 secondi cazzo porca miseria perché prende siamo partiti tutti subito sono arrivati tutti sono arrivati tutti ci siamo ci siamo tra 13 secondi si parte raga 13 secondi e si parte ok ragazzoli siamo partiti via 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 il fatto che tutti ti tagliano subito la strada già ti fa capire che il mamma mia siamo troppi siamo troppi siamo troppi signori miei siamo troppi siamo in 24 siamo 24 raga dobbiamo arrivare almeno fra i primi 20 raga fra i primi 20 dobbiamo arrivare raga dobbiamo cercare di arrivare fra i primi 20 ciao zio ciao 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 va di qua va di qua va di qua c'è da ubriacarsi signori miei c'è da ubriacarsi mannaggia no beccato due ho beccato il buco sotto del del piano di sotto e so finito completamente sotto ma parca miseria ma parca miseria e va bene ormai è andata così è andata così siamo nel secondo nel terzo quello mi sta correndo di fronte va bene ognuno si fa gli affari suoi bella così e campiamo tutti ognuno si fa i fatti propri e viviamo tutti felici e contenti bello così quello si sta facendo per gli affari suoi per ora tutto tranquillo signori miei siamo ancora in 22 in vita dai così dai così dai così dai così dai così 20 20 ora che avevo detto tra i primi 20 dove dobbiamo rientrare fra i primi 20 mi sa che questo è l'ultimo livello raga mi sa che questo è l'ultimo livello per poter rimanere in vita dai dai zio dai zio mamma mia e prima che poi non capisci più niente quello che c'è sotto e quello che non hai sotto mannaggia a te chi non te lo dice pure tua mamma in carriola tua mamma che porta la spesa a casa in 15 raga 14 stanno a morire tutti raga questo è l'ultimo livello mi sa raga questo è l'ultimo livello sono in 13 siamo rimasti in 13 raga siamo rimasti in 13 bella così l'obiettivo è arrivare fra i primi 20 partiamo da 24 raga quindi l'obiettivo è arrivare fra i primi 20 e siamo siamo in 11 siamo in 11 tanta roba signori tanta roba signori bello capito come funziona il salto il salto per rimanere in vita raga ho capito come funziona il salto per rimanere in vita ma gli ho finiti sono arrivato settimo no sesto sono arrivato sesto settimo non lo so bello canzo mi è piaciuto dai dai è andata bene è andata bene ne facciamo un'altra so perfettamente che mi sto per tirare la 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 pietra sul 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 da solo da addosso praticamente perché questa era andata bene erano arrivati sesti o sesti settimi non lo so però però raga tanta roba tanta roba lo sesto settimi e tanta roba e vediamo se riusciamo a fare qualche altra cosa se riusciamo ad arrivare fra i primi 10 anche in questo turno siamo di nuovamente 24 su 24 tantissime persone che corrono come dei pazzi in giro in una stanza io sembriamo dei 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 topi chiusi in stanza guarda che tutti devono subito partire a chiudere a tagliare la strada che cosa insopportabile che cosa insopportabile il fatto che ti devono tagliare la strada giustamente il gioco consiste in questo nel far cadere gli avversari a terra e giustamente tutti tendano a bloccarti e a chiuderti e a tagliarti la strada così giustamente ti sparisce il blocco sotto tu non te ne rendi conto e caschi come un scemo ecco per parlare per dirlo in italiano il double jump no ma porca miseria il double jump non ma funziona del double jump siamo in un punto brutto raga siamo in un punto bruttissimo siamo proprio al centro della mappa siamo caduti bella così ma porca siamo arrivati ventunesimi quanto siamo così ventunesimi perché ne rimanevano 20 giocatori dopo di noi quindi il nostro miglior risultato è il settimo posto il settimo posto è il nostro miglior risultato va bene ragazzoli allora detto questo vi ringrazio per guardare questo video spero che questo tipo di mini game vi piaccia se volete lo posso riportare potremmo anche provare gli altri ma sono un po' più complicati e detto questo ragazzoli che dirvi grazie per i commenti e per i like che lascerete e grazie per i suggerimenti consigliatemi qualche altro giochino carino di minecraft che magari posso portare che vi può piacere noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo video nei prossimi giorni bella raga ciao